Il progetto porta in campo i primi risultati della ricerca che stiamo portando avanti da giugno dello scorso anno e i primi risultati che volevamo portare erano proprio quelli che consentono soprattutto alle piccole realtà che vogliono affacciarsi sul mondo dell'e-commerce di avere una soluzione facile, rapida, a basso costo per portare online i propri prodotti e i propri servizi. Si vuole arrivare a dare un'opportunità, un'opportunità a soggetti produttori del commercio al dettaglio e di soggetti che erogano servizi di qualsiasi tipo a 360 gradi, di poter avere una vetrina per poter essere sul mercato nel più breve tempo possibile e nel migliore modo possibile. La community avrà come obiettivo quello di sviluppare attività formativa, informativa e di collaborazione tra le piccole e le medie imprese trentine che aderiranno alla community di Indaco. Abbiamo partecipato con questi partner a questo progetto di ricerca innovativo, è un progetto rivolto al nostro mondo ma a tutto il mondo delle imprese trentine, delle realtà di indali trentine, crediamo che anche con questa modalità la cooperazione possa riaffermare il proprio ruolo all'interno della comunità trentina e in qualche modo essere protagonista di quello che sarà un futuro di crescita di nuove opportunità operative di lavoro e che mi auguro sarà un percorso virtuoso, ci crediamo molto e quindi andiamo convintamente in questa direzione. Grazie a tutti.